Buongiorno Superman Buongiorno, stai uscendo già? Eh beh, le persone normali alle otto vanno a lavorare mentre lui si ritira a quest'ora, Superman Sì, abbiamo fatto la cena con gli amici e insomma abbiamo fatto un po' tardino, ma non è che... E... è lecito sapere dalla cena fino a quest'ora che cosa avete fatto? Superman Cosa abbiamo fatto? Abbiamo... abbiamo fatto la cena e poi abbiamo fatto una passeggiatina con gli amici capita anche per smaltire quello che abbiamo mangiato, fammi... Un momento, quanta fredda! E avete passeggiato per otto ore consecutive? Superman No, otto ore consecutive, perché? Abbiamo fatto la cena, la passeggiatina E Marco ci ha portato a casa sua, ha comprato una nuova casa, adesso si è trasferito lì Bella, bella casa comunque Un momento, era così grande la casa di Marco che siete stati tutto quel tempo per visitarla naturalmente, Superman La casa è piccola, non è che è grande, però abbiamo un bicchierino, una parola tirava l'altra e poi abbiamo accompagnato gli amici, non... posso andare a... Un momento! Gli amici abitano tutti quanti sulla Luna, ecco perché ci avete messo tutto questo tempo Non è vero? Superman Ma scusi, mi fai capire perché mi chiami Superman? E perché soltanto tu e Superman mettete le mutande sopra il pantalone